In merito all'inagibilità delle sedi del liceo classico video e del liceo artistico Mazzara, il consigliere provinciale Andrea Gerosolimo ha presentato un'interrogazione al presidente della provincia Antonio Del Corvo al fine di acquisire precisi elementi in ordine alla data di pubblicazione del bando relativo ai lavori di ristrutturazione del classico e per conoscere i motivi per i quali i lavori presso l'immobile del liceo artistico ubicato in via Silvestro di Giacomo sono stati per lungo tempo interrotti. La situazione fa presente Gerosolimo induce i rispettivi studenti a frequentare le lezioni presso strutture provvisorie. La drammatica condizione degli studenti del classico, dice, impone il dovere morale, ancora prima che giuridico, di imprimere la massima celerità alle procedure relativa alla pubblicazione del bando finalizzato alla realizzazione dei lavori di ripristino dell'immobile di piazza 20 Settembre. Il perdurare di una situazione di stallo prosegue che si protrae colpevolmente da anni, impone altresì che si proceda nei tempi più rapidi possibili alla concreta realizzazione dei lavori. Il riferimento all'immobile del liceo artistico afferma ancora Gerosolimo che in passato era stato utilizzato anche quale temporanea sede del liceo classico non ci si può esimere dall'evidenziare che i lavori di ristrutturazione si protraggono ormai da oltre un anno e che non è più tollerabile ogni ulteriore indugio nella loro ultimazione.